Ad Avigliana c'è il Giardino delle Donne, un progetto di riqualificazione di uno spazio verde pubblico in pieno centro storico e che ha trasformato un giardino in un'opportunità di relazione e integrazione per le donne. Al suo interno due muri con molte mattonelle artistiche di altrettanti ceramisti e il progetto Le Pareti dei Ceramisti, ideato da Luigi Castagna, volto noto dell'arte valligiana, essendo uno dei curatori della Galleria Arte per Voi di Piazza Conte Rosso, ad Avigliana naturalmente. Nella prima parete 77 ceramisti e 84 piastrelle. Nella seconda parete 45 ceramisti e 53 piastrelle, ovviamente provenienti da ogni parte del mondo. perselo di Cari Castagna. Nella prima попадando in una partice della grandione, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.